Analizzando un po' i nostri punti di forza mi sento di dire che siamo un gruppo ben coeso e che cerca di essere protagonista nel gioco. Sicuramente i nostri ruoli chiave sono ricoperti da persone che ci danno tanta fiducia e tanto ritmo. I nostri punti di forza si baseranno un po' su quello nella partita di sabato, dare ritmo, velocità e imprevedibilità. I punti di forza dell'Inghilterra sono sicuramente una fisicità importante, sono fisiche e anche molto veloci. Quindi sarà una bella sfida. Secondo me la terza linea è un riparto ben competitivo da entrambi i lati. Dal nostro abbiamo Elisa Giordano e Ilaria Righetti che sono tra le più esperte del nostro gruppo. Sono ragazze molto dinamiche. Elisa Giordano è il leader della nostra rimessa laterale. Ilaria Righetti è, penso, tra le prime in placcaggi fatti ogni partita. Di fronte abbiamo delle terze linee di grande spessore. C'è un 7 molto dinamico, un 6 molto potente. Poi c'è il numero 8 che è anche il capitano, 140 cap con l'Inghilterra. Quindi sarà una sfida davvero tosta, ma io credo che possiamo essere sicuramente all'altezza. L'elemento su cui possiamo puntare di più per la sfida di sabato è la precisione. Dobbiamo essere precise e ciniche. L'Inghilterra è una squadra che non perdona i tuoi errori. Ad ogni possibilità andranno a marcare dei punti e anche pesanti. Quindi la nostra parola d'ordine dovrà essere precisione in tutto quello che facciamo. Poi ovviamente ci saranno degli errori, non giochiamo da tanto insieme, ma sarà importante anche come rispondiamo all'errore con precisione.